Dopo le minacce sull'uso delle armi nucleari, dopo decine di migliaia di morti e feriti, dopo le stragi e i saccheggi subiti dalla popolazione ucraina, ieri il Wall Street Journal ha rivelato che gli Stati Uniti, come già la Gran Bretagna, sono pronti a fornire all'Ucraina armi all'uranio impoverito e Putin ha risposto che allora le useranno anche loro. Nel 2008 quest'Aula ha approvato una risoluzione che chiedeva il divieto globale dell'uso di queste armi pericolosissime per la salute e l'ambiente. Mi chiedo cosa sia cambiato da allora. Mi chiedo perché tutte quelle forze politiche che fino a pochi anni fa facevano battaglie condivisibili, oggi le rinnegano, anzi alimentano una guerra dannosa per tutta l'Europa. Presidente, non è mai troppo tardi per cambiare la direzione di questo conflitto. Non arrendiamoci a chi getta benzina sull'odio fra i popoli, magari perché ha il servizio di qualche lobby di armi. L'Unione europea ha la pace nel suo DNA. Il prossimo Consiglio europeo lanci dunque un messaggio di pace e di speranza e imponga il dialogo ai due contendenti. Grazie.